buon pomeriggio amici di panorama italy rieccoci in diretta amici stiamo andando sul set di piazza marina della fiction viola come il mare con gioia man e francesca ghillemi salutiamo a tutti gli amici che si stanno ricollegando ragazzi siamo partiti dall'auto perché come vedete sta un po più vicinando anzi in questo momento un po meno forse vero mimo siamo live ragazzi siamo già in zona cala quindi fra qualche minuto troveremo posteggio quindi a posteggiare e andremo sul set salutiamo a tutti gli amici che si stanno ricollegando a vedere la situazione ragazzi come detto probabilmente anzi sicuramente ragazzi oggi pomeriggio le riprese sono in un posto in un luogo al chiuso perché comunque la giornata abbastanza piovosa su palermo ma già luca paolisso ciao giallo ragazzi siamo in zona cala guardate non so se lo riconoscete sicuramente gli amici di palermo si salutiamo a vale armida ciò vale bentornati in diretta amici e amiche salutiamo anche adele saluto tutti gli amici che si stanno ricollegando aspettiamo qui per posteggiare ragazzi non sei di fortuna di abbia trovato subito posteggio vamos aspettiamo quest'autocache saluto intanto anche a maria veronica e saluto ma chiara raimondi ciao chiara vamos ragazzi vi ricordo di condividere la diretta saluto anche la amica alessandra loia conosciamo alessandra e salutiamo romina sarandrea ciao emanuela andiamo a vedere ragazzi in direzione piazza mia ci hanno comunicato che il 7 potrebbe essere ancora qui però non sappiamo ragazzi come detto le riprese molto probabilmente saranno in un luogo al chiuso quindi andiamo a vedere se magari per caso c'è qualcuno qui quindi andrà a vedere perché ce l'hanno segnalato ovviamente vediamo c'è domani che giusti francesco dominici scendiamo dall'auto ragazzi nel frattempo ragazzi ovviamente condividete questo è lo scenario magnifico della cala di palermo saluto anche a franca rinaldi ciao franca vamos ragazzi anzi fortunati vivo non sta piovendo più questa è la cala di palermo salutiamo anche a romina e salutiamo a sarapollastro sandra pollastro andiamo andiamo in direzione piazza marina ragazzi siamo a due passi dalla cala di palermo temperatura ragazzi molto fredda oggi su palermo siamo intorno agli 8 gradi percepiti sicuramente qualcosina in meno vero mimmo saluto anche a simona simone meri correnti a dire rita vamos andiamo da quella parte mimmo vediamo com'è la situazione nel frattempo salutiamo a tutti gli amici si stanno ricollegando salutiamo anche rosalia dragotto c'è rosalia siamo stati un po sotto in hotel ragazzi ovviamente vedendo che la situazione era abbastanza tranquilla insomma come già detto stanno facendo le riprese in questo momento e abbiamo preferito insomma spostarci un po saluto ma d'alex carlina e fiorella massarotto ciao fiorella nella situazione vediamo se magari sono lì sicuramente camion ne sono lì ragazzi non so se troveremo anche gianno comunque qualcuno della della troupe metto il cappuccio perché c'è un po di freddo saluto anche sabella e ribero rosanna girolamo vamos ragazzi entriamo in centro storico da quella parte faremo anche veronica giaconia cio veronica buon pomeriggio anche a silvia sciarratta cio silvia insomma dai mimo la giota sembra che si è sistemata forse ragazzi la serata sarà un po migliore stasera salutiamo in chiamata amica concetta di maria da da new york romina bellissimo posto grazie cala di palermo ragazzi in fondo il bellissimo monte pellegrino salutiamo anche a valentina villanueva ausilia piazza andiamo ragazzi entriamo da questa parte salutiamo anche angela buon pomeriggio carla vale carola giusi ovviamente entro li salutiamo a tutti 400 in diretta grazie di cuore ragazzi dovrebbe partire venerdì ragazzi venerdì dovrebbe partire può darsi cantissimo può darsi che ritardano siamo ben coperti ragazzi siamo ben coperti salutiamo anche a rossella ospitale da sciacca ciao rossella vamos andiamo mimo salutiamo anche dal brasile ciao maria paredes entriamo da qui ragazzi in centro storico faccio rivedere la cala salutiamo anche la mia amica paola squarzina ciao paola grande mi fa piacere sentirti salutiamo anche agnese fadex e marisa sgroi guardate che spettacolo ragazzi la cala di palermo grazie si andrà a vedere in zona piazza marina in fondo vedo già dei camion quindi le segnalazioni sono giuste qui ci sono alcuni camion vediamo un po la situazione vediamo se c'è qualcuno eventualmente ragazzi torneremo in diretta dopo intanto ringraziamo marcella spinova che invia 100 stelle grazie ragazzi facciamo un diciamo un passaggio qui sul set vediamo se vediamo se becchiamo qualcuno dopodiché eventualmente chiudiamo e per stasera magari aspettiamo in hotel mimo che dici di che inutile stare troppo in giro diciamo a prendere freddo inutilmente perché loro sicuramente stanno facendo delle riprese al chiuso salutiamo antoni vanno se frate sa domani chiari a giamannina salutiamo a laura curatolo andiamo mimmo vamo se vamo se vamo entriamo ragazzi ztl attiva quindi dovete pagare il pass per entrare se diventando anche all'idea liotta e a martin devo in saluti mimo come ti sembra in fondo sembra che ci sia qualcuno ieri nell'altro lato della piazza ragazzi ieri non erano qui le riprese quindi qui in questo momento ci sono dei camion non so se c'è gianne oppure magari potrebbe essere anche un altro set questo mimo quindi vediamo un po la situazione ci avviciniamo saliamo anche roberto ganus e olga saluti saliamo anche sarah list la nostra amica monica luiz ragazzi qui hotel palazzo sitano l'ho ricordata questo è il bellissimo corso vittorio emanuele che arriva fino alla cattedrale di palermo di di palermo in fondo la bellissima porta nuova la potete vedere in lontananza vedete e da questa parte invece abbiamo la bellissima porta felice in fondo soprattutto corso vittorio emanuele l'antico cassaro mimmo vamo salendo nella fina salutiamo anche amparo sorolla limogne e salutiamo a carmela nicastro nella situazione da quel lato mimmo vamo siamo c'è un po di freddo mimmo quindi diciamo camminare ci aiuta ma stanno girando ancora lì ragazzi qui ci sono dei camion non so se questi ieri giravano cioè avevano i camerini dall'altra parte quindi direi di andare da quel lato qui vedete in fondo ci sono alcuni camion però ieri loro si cambiano negli altri camion quelli che si trovano dall'alto della piazza quindi direi temporaneamente di spostarci da quel lato potrebbero fare anche delle riprese all'interno quindi vediamo un po adesso se vediamo se vediamo un po di movimento non prendete freddo no infatti ragazzi siamo siamo comunque in movimento anche per questo salutiamo anche rosalia vesco da castellammare del golfo salutiamo a maria rosaria morrone sempre presenti grazie alla mimmo che dici qui mi sembra tranquilla anche se ci sono comunque quella è detta la sicurezza quindi potrebbero fare delle riprese anche all'interno sarebbe anche americorrenti potrebbero essere anche un altro set però qui ci sono altri camion e mimmo questo qua sono i camion di ieri sera in fondo vedo una macchina simile a quella che potrebbe essere di gianna adesso vediamo intanto ringraziamo e salutiamo anche alice ferreira ciao alice potremmo anche monica marrali arrica tognoli minimo situazione sembra abbastanza tranquilla comunque probabilmente può darsi che già si sono cambiati si sono spostati su sono andati in su in un palazzo mimo no 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 non sono queste le auto andiamo da quella parte saluto anche maria veroni calonico e stefania marinelli dalla germania ciao ciao stefi andiamo 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 470 in diretta vamos arriviamo a 500 ragazzi vediamo la situazione da quella parte ieri come dicevo si sono cambiati qui e poi sono spostati nei palazzi qui vicino quindi non so se oggi potrebbero essere ancora qui oppure magari si sono già spostati comunque ragazzi torneremo sicuramente in diretta stasera perché stasera ovviamente ci saranno ancora delle riprese e si sposteranno probabilmente in in altri posti sempre settal chiuso probabilmente perché il cielo comunque vedete abbastanza nero sul palermo passiamo da qui mimo vieni passiamo da qui ragazzi facciamo così una una panoramica maggiore sono anche giuseppe geraci e rosalia ciao rosalia come ti sembra mimo tranquilla situazione vero molto tranquilla ragazzi camion ci sono che sono quelli di ieri sera però non vediamo nessuno di loro perché probabilmente come già detto prima potrebbero essere già a riprendere salutiamo a fratello anthony vamos il quattro si ragazzi il quattro e il cinque salutiamo anche a lucia mondello ciao lucia e alice ferrera buon pomeriggio ciao alice grazie per il supporto salutiamo anche all'altra nostra amica che ha inviato delle stelle a supporto della pagina ringraziamo anche marcella spinova che dici mimmo situazione tranquilla salutiamo anche analia fuster c'è natalia insomma i camion non ci sono i camion non ci sono vediamo se c'è qualche macchina che ci può ricondurre al fatto che ci sia gianno oppure no saliamo in chiamarlo palizio vespertino e maria veroni calo negro ringrazio a tutti gli amici che comunque ci stanno supportando in questa live con le condivisioni ovviamente vi ricordo di lasciarci un like anche su youtube e instagram alla mimmo che dici situazione abbastanza tranquilla le auto non li vedo le auto non li vedo però i camion sono tutti qua come ieri ragazzi quindi probabilmente come già dicevamo prima già può darsi che si sono cambiati si sono spostati saluti anche maria antonietta billesci e rosa pozebon allora mimmo che facciamo allora ragazzi io direi adesso noi ci spostiamo quindi situazione comunque abbastanza tranquilla qui ci sono i camion e tutti i camerini dove sono cambiate anche ieri io ringrazio a tutti voi che siete intervenuti ovviamente direi di tornare eventualmente poi stasera ragazzi torneremo stasera in diretta ringrazio a tutti gli amici sono intervenuti oggi oggi pomeriggio sotto anche falice ma sei e carmela caravelli grazie ci vediamo dopo dai penso vediamo noi stiamo qui altri cinque minuti dopodiché ci spostiamo così andiamo a cenare anche noi e dopodiché e dopodiché eventualmente torniamo in diretta stasera ringrazio a tutti gli amici che sono intervenuti un abbraccio davvero di cuore ragazzi da palermo mi facciamo un saluto da questa palermo ragazzi stranamente stranamente gelato saluti ci vediamo alla prossima diretta ragazzi un bacione abbraccio da palermo e grazie di cuore a tutti che ci seguite sempre faremo anche un amico ninuzzo mannino ciao ninuzzo saluti a marica ciao marica insomma ragazzi come vedete i cammini sono ancora tutti qui però di auto non c'è traccia quindi probabilmente saranno in un set al chiuso a riprendere ci vediamo dopo ragazzi sempre da palermo sempre su panorama italy ragazzi vi raccomando di lasciare un like alla pagina alla prossima ciao ciao ciao